E siamo ancora qui al Paradise Café di Capri con una compagnia straordinaria Dentro qui succedono cose turcole come diceva Lino Banfi Ecco qua, Florinda Recupito, grande, in grande forma Ciao cara, saluta la telecamera Buonasera a tutti quanti Buonasera a tutti quanti Questa sera assisteremo ad un bagno incredibile Florinda Recupito che si immaginerà vestita in bagno Quindi una grande situazione Dopo di te, dopo di te Insieme, no, no, insieme, insieme Quindi tutti e due, i nudi, poi vengono nella piscina Una cosa storica, Florinda Recupito, grande volto di Capri Un personaggio, un volto di Via Camerelle Non è che non succederà mai, non succederà più Non succederà più Sono finiti i tempi delle mutande, diciamoci la verità Adesso ci sono le mutande diverse Ecco, Sergio Megna, che cosa sta facendo? Per me è no Per me è no Cosa sta facendo, Sergio Megna? Mi sta toccando Oh mio Dio E qui abbiamo ancora Francesca Esposito Buonasera E Angelo de Roma Buonasera Buonasera, che hanno mangiato qui Com'è la cucina del Paradise Caffè? Ottima, devo dire Cosa avete mangiato? Un polipo all'insalata, ottimo E un tortino di salmone con paté di patate, ottimo Insomma, una cosa straordinaria Da provare assolutamente Venite al Paradise Caffè per assaggiare la nuova cucina internazionale Un misto internazionale fusion Quindi veramente straordinario Un menù da leccarsi i baffi con un aperitivo eccezionale E una cena altrettanto Andiamo a vedere dentro Andiamo a vedere dentro Dentro abbiamo il bar La sezione bar E con il proprietario Il proprietario Franco Lavia Il nostro proprietario Che veramente ci ha permesso di fare una serata straordinaria Come tante ne vedremo durante l'estate È un piacere, è un piacere Avervi tutti quanti qua stasera, è un piacere Assolutamente Quante serate dovremmo vedere Franco qui Con il ristorante, l'aperitivo La piscina straordinaria Questa è una delle prime dell'estate Assolutamente Quindi adesso che ci iniziamo a riscaldare un po' Ne vedremo delle belle Proprio il fuoco qui al Paradise Caffè Il fuoco Quindi scendete Evitiamo le banalità Andiamo qui dove fa l'eccezione La diversità, la particolarità Di un posto straordinario Nel cuore di Capri Vicino al porto Tra la piazzetta e il porto Straordinario Quindi grazie Franco Perché veramente ne vale la pena Ma chi ha preparato questi manicaretti straordinari? Eccolo qui Il creatore di tanti manicaretti meravigliosi Lo chef Veramente Io ho associato la cucina a un misto tra international e fusion È vero? Sì sì confermo Confermo Ecco quindi questi piatti della tradizione straordinaria di questa sera Un po' rivisitati Un po' rivisitati Il pacchero per esempio Questo pacchero Com'era? Com'era questa patata? Una cremina di patate sotto un letto di crema di crostacee e salmone Anche un po' piccante No? Era anche un po' piccante Quindi sono molto molto da provare Da assaggiare a bordo piscina Per una serata easy, fresca E una ricetta da casa? Una ricetta? Lavoro in privato, faccio consulenze Il mio numero è puntini puntini Però un piatto che consigliamo? Venite a Bristol e assagerete tutto quello che volete Un menù straordinario Veramente Tutti hanno assaggiato e tutti sono felici Oltre ad essere anche abbastanza bevuti Perché il bar è straordinario Il bar completa il tutto di questa grandissima struttura Con baristi professionali che stanno a contentare i vostri palati Bravissime persone che veramente sanno scecherare, miscelare qualsiasi cosa Paradise Café è l'alternativa a Capri Torniamo alla vecchia Capri con divertimenti belli, sani e soprattutto eleganti Viva il Paradise Café Viva Pierluigi e Anastasi Viva il Paradise Café